lino sbagging e ornella mengato papà e mamma di marco sono di riese più decimo perché avete iscritto vostro figlio al cfp di fonte per un futuro migliore per vostro figlio che la scuola mi sembra seria va bene perché abbiamo fiducia in questa scuola e che corso fa vostro figlio terzo elettrico ok quindi sta diplomando si spera che vada tutto bene ok grazie